Ci troviamo al santuario di Santa Maria del Sasso a Bibbiena. Ci troviamo qui perché vogliamo conoscere, vogliamo far parlare i due frati dell'Ordine Domenicani che sono oggetti ormai da qualche giorno di grande dibattito. Perché? Perché l'Ordine dei praticatori, i frati dell'Ordine dei praticatori, l'Ordine Sorasta, gli ultimi padri domenicani che sono rimasti ad Arezzo, ha deciso di spostarli presso la casa di San Domenico di Fiesole. Vista l'età, vista tutta una serie di situazioni, hanno detto che devono andare sostanzialmente a riposo. La notizia è ribaltata un po' su tutti i media perché padre Giovanni Serrotti e padre Giuseppe Serrotti, entrambi sono fratelli, 87 anni il primo, 92 anni l'altro. Ritengono che non sia giusto che loro sono assolutamente in grado di sostenersi, di vivere la loro vita nel santuario e quindi di arrivare magari alla loro fine, ma nella casa, che è la loro casa d'inizio. Si è fatto un gran parlare, è stata anche una raccolta firme per poter far rimanere qui i frati. Ricordiamo che padre Giovanni Serrotti è anche uno dei protagonisti dell'emittenza rettina, è stato il fondatore di Tele San Domenico, la prima emittente cattolica e comunitaria della nostra provincia e anche lì a un certo punto da un'imposizione dall'alto ha dovuto smettere, ha dovuto cessare questa attività per essere poi, per venire qua al santuario di Santa Maria del Sasso. Adesso una nuova imposizione? Vogliamo verificare, conoscendo direttamente il padre Giovanni, vorremmo capire con lui effettivamente il suo pensiero, anche perché loro hanno dato una vita all'ordine religioso e pare che sia anche un po' come una sorta di interruttore. Adesso basta, non servite più. E quindi spengere la loro attività pastorale che portano avanti da tanti anni. Noi riteniamo che sia una cosa non giusta e per questo, visto anche la conoscenza che abbiamo con padre Giovanni, vogliamo farlo parlare con voi. Allora, siamo in compagnia di padre Giovanni Serrotti, padre, è un piacere di trovarla qui nella sua terra natale e nella sua santuario natale. Grazie, era meglio che con tante diverse. Sì, noi ci siamo conosciuti, lo ricorderemo anche perché ricorda tutti che padre Giovanni Serrotti è stato anche il fondatore di Sele San Domenico d'Arezzo. La nostra visita qui, oltre che ovviamente è un piacere, diciamo, essere con padre Giovanni, ma ha preso lo spunto anche per la vicenda che ultimamente è un po' su tutti i media, ma soprattutto è nel cuore della gente, padre, perché noi abbiamo visto un grande attaccamento a questi due frati domenicani che l'ordine, il frate dell'ordine dei prodigatori, dice dovete andare alla casa di San Domenico a Fiesole. Partiamo innanzitutto. La sua casa, padre, qual è? Questa. Voi siete nati qui. Qui dietro, qui dietro, proprio addosso alla chiesa. nato lì, insieme al fratello e alle due sorelle. Ma intanto siamo qui in un posto dove, al tempo della guerra, nel 1944, c'erano 400 persone ricoverate, rifugiate. Lì ogni tanto macellavano una bestia che veniva da lontano, chissà come recuperata, per poi distribuirla a tutte le monache, si erano ritirate in un piccolo angolino là del monastero, ce ne erano 25 monache, ancora 24. Lei quant'anni aveva? Perché tutti gli affilocari sono presi dall'ospedale. Lei era un giovane... Io avevo otto anni a quel tempo. Otto anni? In un'età in cui si è curiosi, si è increduli su quel che succede. Si andava a guardare i bombardamenti, io ho l'attaccione, una cosa, arrivano gli aerei, le serene forse andiamo. Avevamo una quindicina, venti ragazzi che ci si dava l'allarme in questo senso, perché per noi era una specie di pubblicità, di stranetta, di spettacolo da seguire, bombardamenti, mitragliamenti. Le SS tedesche che vennero anche qui, mi ricordo di mia mamma la mattina che si scendeva a due per andare alla messa, nel buio capitò di caspettare l'elmo della testa di un tedesco, delle SS. Erano venuti, avevano fatto saltare il ponte, si erano rifugiati qua dentro al buio, dove appunto al buio, mi ricordo che quello si alzò di scatto, si fece così contro di me e contro di mia mamma. Finì tutto lì, loro poi scapparono subito, perché c'erano già gli alleati che erano arrivati qua a Rassina, che ricordi? E qui c'erano circa 400, scusi eh, bisognerà, bisognerà, sì, dopo la taglia, non c'è problema. 400 rifugiati un po', anche da Rezzo, da Rezzo mi dicevano, ci dicevano, che erano scappati tutti, avevano smesso di dare la caccia ai troppi nelle foglie di Aretiente. Troppi nelle foglie di Aretiente? E si arrestero quando quella volta si scontrarono con un altro gruppo che gli aveva dall'altra parte, aveva già fatto razzia dei troppi che aveva trovato. pensare un po' a i racconti della guerra vissuti qui, in un momento nel quale... Quanti fratelli eravate nella famiglia? Quattro. Quattro fratelli. Due fratelli e due sorelle. La prima sorella, anni fa, è già morta, c'è l'altra sorella che sposò un francese, della televisione francese, e ora è rimasta sola e sta a Prato, ma è quella che mi ha chiamato dicendo, guarda, queste circostanze, io sono sola qui e c'è posto, c'è caldo, c'è spazio, quanto vuoi. Può darsi che vada a finire così, scusate, che vada a finire così, per ora io però ho detto di cui non mi muovo. Però prima di arrivare a quello, padre, vogliamo raccontare anche la parte che riguarda l'idea di mettersi una televisione di tipo comunitario, di tipo cattolico, tele San Domenico. Come nacque, padre, questo? Nacque dal fatto che noi avevamo il Collegio San Domenico con a quel tempo una settantina di ragazzi. Lei era da Rezzo allora, no? Era da Rezzo, aiutavo il mio fratello, lui era il rettore, io ero vice-rettore, ma avevo già l'assistenza agli scout, avevo già un po' la nomina del vice-farroco, eccetera. E venne in mente l'idea di far passare il tempo la domenica a questi ragazzi, invitandoli e facendo capire quel che succedeva nel mondo. Quindi la telecamera, un proiettore, la domenica si faceva vedere quello che si riusciva a registrare. E da lì come nacque la televisione? Mi ricordo che la prima telecamera, un viaggio fatto in Svizzera per andare a acquistare quello che in Italia non era possibile, io avevo capito che c'era modo, e venni qua nascondendo la telecamera in quella grossa valigia, naturalmente la vigilanza nei treni, cioè le mie cose personali, non la fece aprire, riuscì a non farla aprire, se no mi sequestrava, e riusciva a portarla qua. E da lì cominciai a registrare queste prime cose importanti che servivano per il Collegio San Domenico, per fargli vedere la domenica quello che o la RAI, c'era solo RAI 1 e RAI 2 in bianco e nero, oppure quello che comunque era importante che i ragazzi sapessero. E dopo come iniziò a mandare questo segnale nell'etere? Poi subito venne la voglia, queste cose a quel tempo riuscirono ad esistere circa 370 emittenti locali, a Bibbiana nel Casentino ce n'era tre, e quindi mi vedo, e che facciamo? Dico, non siamo fermi, venne l'esiderio di capire se queste cose che già sperimentavo con i ragazzi potevamo diffonderle. Quindi riuscimmo a fare un primo rudimentalissimo ponte che copriva appena pochissima distanza, poi di volta in volta le scoposte, la polizia postale, le indagini, i fermi. Se questo ci arriviamo, comunque nell'ordine ecologico mi pare... Se si mette a raccontare questo non vediamo mai. Nell'ordine ecologico mi pare che comunque la sua sia stata la prima in intento comunitaria, almeno per quanto riguarda la nostra. Una delle prime. Una delle prime. Tra noi personaggi dell'Etere, diciamo così, c'è un aneddoto che la riguarda. Anche per dire ai nostri ascoltatori e a chi ci vedrà il carattere di difesa che ha padre Giovanni, no? Mi pare che una volta lei in difesa di Tele San Domenico, insomma, un po' sbattetti i pugni anche all'ispettorato perché mi pare che in quel periodo... Ma certo, andai a Roma, mi chiuso le prime frequenze, andai a Roma al Ministero per far capire e imporre un po' le ragioni, eccetera, per difendere. A quel tempo c'era da difendere il diritto delle televisioni private perché era proibitissimo. Quindi un diritto padre Giovanni in difesa di un diritto e poi padre che successe? Beh, successe che piano piano cominciò ad avere questo primo arco su Suarezzo e Bassa difendendoci. Mi appoggiai molto a chi aveva interesse, naturalmente era il suo mestiere, la grande ditta di Piero Barbagli di Siena, no? Della SES, poi diventato la SS, eccetera, che mi seguì con molto interesse, devo dire, anche non speculando troppo sull'impegno, sulle spese, videro con simpatia questa, come la gente ha visto con simpatia questa altra voce che voleva in qualche modo, mentre tutti si accavallavano sui spettacoli, sulla spettacolarità delle cose, la vita in concreto e i problemi reali della gente della nostra chiesa. E anche la preghiera. E cominciai anche a cercare di trasmettere la messa. Quindi Tele San Domenico fece una grande crescita, ovviamente, si inserì nel tessuto cittadino, poi padre però a un certo punto. E qui è l'aneddoto, un altro aneddoto, che la vede così direi, dover rinunciare a questa tv. Beh, i frati di Domenicani da Roma qualcuno aveva cominciato a fare obiezione. Mi ricordo le frasi di uno che era l'amministrazione, ancora vivo, l'amministratore di tutta la zona per noi del Lazio e della Toscana. Mi fu riferito da un frate, padre Giovanni De Mattia, che vedeva con molta simpatia questa iniziativa. Lui era amante della tecnica, mi ricordo, era un biologo di questo frate, il priore del convento dei rosari dei frati a Roma. Mi diceva, padre Giovanni, vedi un po', guarda, dammi più coraggio perché questa cosa è interessante e io vedo che hai tante opposizioni, c'è quel frate che vuole... E mi difese e mi incoraggiò ad andare avanti. Altri invece vogliono prendere l'iniziativa di scolagiarmi e di togliermi dalle mani e questo. E ci riuscivano. Che cosa le contestavano oppure che cosa le rivendicavano in qualche modo? Se lo vuole dire, ormai è passato il tempo. Troppo banalmente dicendo e parlo di casa mia, le inviglie. Ecco, questo è... Questo purtroppo fa parte... Mi riveli a dire fa parte della vita umana, no? Però noi quando vediamo la figuratura religiosa... Quando dico queste cose la tua mi riprova... No, no, ma scusa, noi siamo al servizio della gente. Se sbagliamo perché non dobbiamo dirlo? E non siamo mica i padroni della gente, siamo i servi. Mi ricordo bene il motto di Giovanni Paolo II, Servus Servorum Dei. Il Papa deve essere il servo dei servi di Dio. Mi rimase in mente questa cosa. Con questi elementi io sono andato avanti con un coraggio che non veniva da me ma dalla convinzione delle idee che non si possono sopprimere. Poi però arrivò l'ordine che lei venisse praticamente... venne qua, no? Fu trasferito qui al santuario. Che anni erano? Lasciai la parrocchia di Arezzo e venne qua. Ormai sono passati una diecina d'anni. Una diecina d'anni. Allora, solo per capire, padre, perché poi la vita lei ovviamente ha rifuscito tutto il suo tessuto sociale qua, vive qui con il suo fratello. Qui c'erano ancora le monache, questo monastero. Adesso siete rimasti lei e il suo fratello qui? No, no, perché da circa otto, nove mesi hanno mandato tre frati, due pakistani, uno italiano di oltre 70 anni però, ai quali è stata affidata la gestione di tutto. Quando dico tutto, togliendo dalle mani di mio fratello anche quella gestione straordinaria che aveva per le missioni di Pakistan, ogni mese partivano, in parte ancora riesce a mandare da qui una marea di soldi e di aiuti al Pakistan alle missioni di lì. Dove c'era padre Aldinamato, l'ultimo grande, gli aretini lo ricordano chi era, che è morto lì, poi lì ci sono morti 20 missionari dominicani nostri, italiani. Ecco padre, quindi diciamo così in qualche senso, in un certo senso è l'ordine che è sopra di voi decide la vostra vita diciamo così, la vostra vita all'interno di questo... Lì è cambiata diciamo così all'interno della nostra circostruzione Italia Centrale, provincia romana e infatti pensa un po', la dicitura è ancora provincia romana dei frati predicatori per le missioni all'estero sono quelle che hanno lasciato io ci sono stato con mio fratello per un mese intero in Pakistan poi appunto lì sono nate delle vocazioni sono venuti in Italia e io ho sempre detto per favore non date idea ai frati sceldi pakistani che possono venire in Italia stravedono per la civiltà europea stravedono per il benessere ma questo è comprensibile state attenti a non incoraggiarli a questo niente sono venuti hanno accettato sono venuti hanno mandato due pakistani uno attualmente è superiore di qui di tutto a pari di Giuseppe gli hanno tolto tutto con uno dei due mi confido molto è molto più accessibile l'altro a cui è stato più riservato naturalmente ma io dico sempre non è colpa loro è colpa di chi ha figli e queste cose è chiaro qui c'erano nella storia dell'ultimo secolo c'è sempre stato questo avvicinamento di un rettore che c'è stato fino alla morte o con altri frati o da solo l'ultimo pari Serafino l'ultimo quindi il cambio era solo attraverso la dipartita mi ricordo pari Serafino ancora quasi morente però era lui che era qui mio fratello era stato chiamato ad aiutarlo ecco perché poi è stato normale che lo diventasse adesso è cambiata storia no siete malati via di qui ecco come è arrivata questa come è arrivata questa come è arrivata come ve l'hanno detto come si può arrivare a noi è stato percepito padre magari è una mia sensazione ma visto che la conosco da anni mi va ad esternargliela un po' come se fosse un interruttore basta adesso non ci siete più e vi mettete là in un certo senso sì c'è un cambiamento proprio di chiamiamola così di politica i nuovi responsabili hanno in mente certe cose devo dirlo purtroppo non sono per niente all'altezza della situazione ho conosciuto i padri provinciali famosi di qui anche i padri cordovani voi avete sentito nominare i padri cordovani i padri ciappi i padri cordovani Padre Serafino fu l'ultimo grande apostolo di Santa Maria e mio fratello è stato l'ultimo di qui di Santa Maria ora cambia questo sistema cambia questo criterio ci voglio domandare non conoscono niente della storia di qui dell'Italia della civiltà europea di Viviena non so fino a che punto i superiori attuali si rendono conto di questo o è già un progetto perché piano piano ve lo dico perché lo si dice piano piano lasciamo Santa Maria e questo ovviamente è una cosa che ci colpisce a noi tutti ecco padre quali sono le cose voi avete ricevuto tante manifestazioni di vicinanza ci sono state raccolte firme ci sono state tante cose da parte vostra è venuto anche recentemente il il vescovo Migliavacca qui con lei no? sì e ci ha colpito perché di solito un vescovo non si impiccia delle cose dei frati nonostante questo il vescovo Migliore è venuto ha parlato con noi ci ha ascoltato ha dolorato di quello che sta succedendo e poi ha avuto il coraggio di esprimerlo in parole molto semplici che non possono offendere ma che rivelano la sua partecipazione a questa vicenda molto sua eccellenza revelendissima si chiama Andrea Migliavacca ma il signore Andrea Migliavacca ha ricevuto e riceve un'eredità abbastanza particolare dal suo precedessore Fontana ma è una persona completamente differente è già entrato nel cuore di tanti aretini certamente certamente è un ringraziamento a lui che diamo riconoscimento della sua bontà della sua attenzione nonostante il rispetto che un vescovo ha difficoltà a entrare nelle questioni di pari siamo il termine tecnico è questo siamo esenti esenti ecco lei mi pare che da qualche parte abbia letto su qualche quotidiano su qualche striscia dice possono venire pure i carabinieri a portarci via ma io l'ho detto e lo ripeto qui vado via solo se mi portano via di peso non lo potranno fare perché se un giorno che venissero io scappo prima è chiaro a quel punto io vorrei vedere quale militare dell'arma potrebbe portare via non lo faranno mai però ripeto lo dico per dire fino all'ultimo ci credo purtroppo questo come dire è in contrasto obiettivo non di pensiero con mio fratello perché lui ha tutto un altro carattere ha tutto un altro carattere la sua storia il suo tipo di servizio nell'ordine la sua fisica e lo capisco e però lui accetta accetta di queste cose io ripeto questa frase che è liturgica come un agnello condotto al macello sono parole della liturgia quando parla di Gesù si è portato sono frasi importanti frate Giovanni naturalmente su queste cose poi si offendono ci fosse stato almeno 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 la dignità e la voglia del superiore di venire qui e di starci una giornata con noi ma scusi dice che c'è stato c'è stato così a scappa e fuggi poi racconta che c'è stato il frate superiore venendo da un'altra parte dove amava andava non dico dove stava c'ha anche dormito poi veniva qui poi dice che c'è stato qui a dirci le cose cioè ma scusi scusi padre ma lei un po' di dignità un po' di dignità perché poi le cose si sanno la storia lo dice e dicono come fanno a dire certe cose a fermare certe cose sono problemi loro che dicevi? c'è l'edemo vuol dire che il frate superiore si dice così dell'ordine del pedicatore superiore provinciale ma non è venuto qui da voi ad ascoltarvi è venuto una volta e dice che ci è stato mille volte è detto una volta ma ci è stato poco tempo ma vi ha ascoltato non ne parliamo non ne parliamo non voglio ovviamente no non ne parliamo senta ad oggi quale ad oggi quale sono le cose che ha visto muoversi ci sono a parte quella del testo come scrive una volta lassù chi lo riporta qui e lei se il suo fratello va via? ma io rimango qui fino a che posto perché non non mi portano via con i carabinieri ho detto così per dire vado via finché è possibile sto qui quando vado vado a stare dove so già dove andare la mia sorella che mi aspetta una delle motivazioni per la quale dicono che viene richiesto questo trasferimento presso la casa San Domenico a Fiesoli mi pare sia quella per tutelare la vostra salute io ci ho fatto due anni i primi due anni della mia vita dominicana un anno di noviziato il secondo anno della primo liceo che facevamo che la conosce sto bene conosco bene ma che ci sia una infermeria dove è risaputo che si va solo per morire è inutile che dicano vieni qui e ti curiamo si sa bene com'è quella infermeria lì ci vanno quelli dell'ultimo momento basta nessuno è venuto via di lì mezzo guarito mai e ci sono ancora alcuni che sono lì e questo mi piange al cuore che ci vogliano portare incandennato il mio fratello che qualcuno si muova che vada a vedere come vivono all'infermeria quindi lei dice che insomma non dà non è una garanzia un sinonimo di cura insomma non è che ci vai ti curi stai meglio e ritorni a casa no va bene senta padre Giovanni noi al di là della manifestazione nostra come radio come anche tante persone che le portiamo il messaggio di vicinanza e veramente non so se avete capito che padre Giovanni che è una persona che veramente a standi vicino mi emoziona è una persona che crede in tanti valori lotta fermamente come ha lottato prima per la tv ma per tante cose su quello che è anche un modo sicuramente ingiusto a mio parere perché non si può come l'ho detto prima spengere un interruttore lei ha dedicato una vita lei e fratella avete dedicato una vita all'ordine domenicano è come dire a un certo punto non servite più e questo non è la gente non lo accetta quindi se anche i frati superiori possono aver avuto questo sentore di darvi diciamo un posto per poter curarvi poter comunque stare nella vostra anzianità questo non è uno dei dati possibili che come dire scusano in parte questa decisione è che avendoci portato due pakistani e uno italiano che dovrebbero nei programmi assicurare la continuità che è tutto da dimostrare perché ripeto senza offendere nessuno l'italiano ha più di 70 anni e non è quello del futuro vabbè con tutto rispetto per lui avendo questo progetto beh pensano che io e mio fratello a questo punto diano fastidio a quelli che sono arrivati ah ecco fastidio sì sono di disturbo di fastidio perché la gente cerca noi le decisioni praticamente le prendiamo noi anche hanno tolto parecchie delle mansioni il rettorato le firme in banca una cosa incredibile incredibile un assalto vero e proprio ecco a questo punto io so qui che sto camminando ancora sto ragionando sto vivendo sto mangiando sto predicando no sarei dovuto andare mica ora anche mesi fa su all'infermeria perché questa è una cosa che riguarda 7-8 guardate mi dico io sono da infermeria e allora noi nel nostro piccolo facciamo mandiamo un invito invito soprattutto a a parlare con padre Giovanni a rivedere determinate cose anche che per chi lo può fare su come effettivamente si possa spendere una vita dedicata al sacerdozio comunque alla alla cristianità alle insegnamenti di Gesù e poi sentirsi così padre io rimango un po' le devo dire sinceramente che lo me lo aspetto da una società civile non me lo aspetto da una società dove ci sono persone come lei che hanno dato tanto e continuano a dare tanto per il prossimo nella storia nella chiesa altro che società civile la storia si dice sono successe tante cose davvero inaccettabili del tutto proprio perché vengono da un ambiente che dovrebbero predicare la verità l'amore e l'attenzione agli ultimi padre noi le facciamo tanti auguri che diciamo niente gli auguri a vostri telespettatori questo è padre Giovanni Serrotti state attenti quando trasmettono cose che non vanno bene ditelo 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 perché io sono sempre stato dietro a questa fissazione la frase del Vangelo la verità vi farà liberi è Vangelo e poi Gesù che dice io sono la via la verità e la vita ecco questa cosa mi ha sempre colpito e talvolta se faccio il giambio di coscienza mi dico non solo se queste cose le dico con coerenza ma se poi le vivo e questo diventa un problema di coscienza mio e chiedo scusa al Padre Eterno se non sono che lei con quello in cui però credo perché una cosa è credere la cosa poi la debolezza umana è lo stare dietro a quello che si crede la coerenza una cosa è sicura lei è sempre stato coerente nella vita la vicinanza delle persone glielo manifestano glielo testimoniano chissà se coloro che sono prendono decisioni al suo posto gli impongono determinate decisioni poi effettivamente lo saranno vediamo come va di tempo ancora non sono morto grazie Padre Giovanni saluto a tutti grazie 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 a tutti 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 ecco perché di questa particolare situazione lo scritto e vogliamo insieme aiutare e ringraziare il Signore per tutti i suoi benefici in particolare in questo momento per la presenza qui adunno mia e il mio padre Giovanni che è terminato ci apprendiamo al Signore per ringraziarlo chiedere ancora il suo aiuto in modo che possiamo ancora capire meglio l'importanza di questo dopo la bellezza di essere qui a pregare insieme e quindi l'importanza di onorare la bellezza attraverso il nostro presenza la nostra figlia antipona inglese a che si tosti tutta la terra a tu vieni a che canti vieni canti a tu no e a massimo ah 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 ah